Nel 2023 il recupero dell'evasione fiscale ha fatto segnare un dato record. Le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate hanno portato nelle casse pubbliche 24,7 miliardi, il 22% in più rispetto all'anno prima. Nel dettaglio, 19,6 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal fisco e 5,1 miliardi da misure straordinarie come rottamazione delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini. Il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate ha superato 536 miliardi, con un incremento di oltre 26 miliardi rispetto all'anno precedente. Attraverso analisi di rischio e controlli preventivi e antifrode, lo scorso anno l'Agenzia delle Entrate ha anche assicurato minori uscite a carico del bilancio dello Stato per 7,6 miliardi di euro, tra crediti fittizi, indebite e compensazioni e rimborsi IVA non spettanti. In attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite IVA, apri e chiudi, l'Agenzia ha anche cessato d'ufficio circa 2300 imprese.